Ah, che splendida giornata che oggi! Ma cosa, perché vedo delle finestre sbarrate a casa di Zoe? Aspettate un attimo, fatemi un attimo andare a vedere. Ma, qual è Zoe? Ma che sta facendo? Ecco qua, fatto. Ehi, ciao Zoe! Senti, ma che stai facendo? Per quale motivo hai sbarrato tutta quanta casa? Ah, sbri, un restyling! Tranquillo, mi piaceva più così. Poi per l'estate così entrava più aria. Ah, ok, beh, è molto strano. Eh, sì, 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 no, è molto bello, cioè, stile. Ah, va bene, ok, come dici tu? Va bene, ciao! Ciao! Ma che strano, ragazzi, non ho mai visto onestamente Zoe così che mette delle sbarre al posto delle finestre. Poi mi ha aspettato un attimo, ma una zanzara comunque centrerebbe benissimo all'interno di quelle sbarre, quindi non è questo il problema. Aspetta, forse era per l'aria, mi ha detto lei. Non lo so, tutto così tanto misterioso. Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché secondo me sta nascondendo qualcosa Zoe. Poi non lo so, onestamente. Vabbè, andiamo, andiamo un attimo a fare qualcosa. Ok, beh. Cosa? Che cosa è successo? Era un'esplosione questa? Oh mio Dio, forse è meglio se non vado prima a dormire. Andiamo un attimo a capire che cavolo sta accadendo qua fuori. Fatemi un attimo vedere. Ma è provenuta, mi sa, dalla casa di Zoe l'esplosione. Ok, basta. Devo andare assolutamente a scoprire che cosa cavolo sta accadendo, perché qua è impossibile che ci siano dei segreti all'interno della mia città, ok? Almeno all'interno del mio quartiere, quindi devo andare a capire che cavolo sta architettando Zoe. E non posso assolutamente non entrare in casa sua. Ok, magari entriamo da questo lato, forse. Ok, aspettate un attimo. Eh, magari potrebbero esserci... Ecco... Oddio, è lì! È qua, Zoe! Oh sciabolette, che sta facendo? Eh? Sta aspettando. Oh cacchio! Oh cacchio, 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 cacchio! Ok, forse è meglio non entrare da quella parte. Andiamo, entriamo dall'altra parte, esatto qua. Non lo so, sembrava che tipo stessi facendo qualcosa nella stanza. Quante telecamere ci sono in questa casa? Oh sciabolette! Non posso farmi vedere! Eh, meno male che c'ho le snowball per distruggerle, ok? Quella di fronte prima... Eh... Eh... Ok, quella a destra... Eh... Eh... Bene, adesso quella a sinistra in fondo... Eh... Ok, e quella lì... Eh, ok, perfetto, ci siamo. Adesso quella lì in fondo... Eh... Ok, ecco fatto, ok, ok, ok. Non dovrebbe... Ok, lì c'è una telecamera... Eh... Eh... Ok, ecco fatto. Eh, poi questa... Ok, e quella lì in fondo... Eh... Ok, molto bene. Ok, dovremmo esserci. Non dovrebbero esserci più telecamere... Eh? Zoe, che sta facendo? Dove va? Oddio. Eh? È entrata qua dentro! È entrata all'interno del... Dell'armad... Oh, cacchio, ma non c'è più niente! Aspettate, allora mi sa che c'è un passaggio segreto qua da qualche parte, sicuramente. Sicuramente non posso... No, no, di sicuro... Oh, oh, cacchio, cacchio, cacchio! Oh, sciapolette! Oh, eh... Ma che posto è tutto questo? Oh, mio Dio! Ma... Zoe, che sta facendo? Bene, bene. Pericolo sul tetto del centro commerciale. Bene, allora... Per andare sul tetto del centro commerciale... Vabbè, userò Spider-Man. Con... Con la mia tuta... Oh! Oh, mio Dio! Ok! Perfetto, sono pronta per sconfiggere il crimine! È salita sopra! Oh, mio Dio! Quindi... Oh, sciapolette! Ma questi sono tutti votelli che può avere Zoe! Che figata! Quindi una supereroina con diversi votelli in base a quello che gli capita! Ok! Devo assolutamente vederla in azione, però non posso farmi vedere! Mi sa che vuole rimanere la sua identità anonima! Quindi, aspetta, ha detto davanti al centro commerciale! Nel tetto del centro commerciale! Ok, perfetto! Allora prendiamoci questo e proviamo ad andare veloci veloci al centro commerciale! Assolutamente! Non posso perdermi nulla di tutto questo! Oh! Oh, mamma mia che male! Ok! Ci siamo! Ci siamo! Oh! Ok! Ecco! Dovrebbe essere lì il centro commerciale! Ecco, ci siamo! Ci siamo al centro commerciale! Ok, bene! Allora, devo salire sopra, però come? Mi servirebbe... Oh, cavolo! Sento degli spari! Stanno sopra! Zoe! Devo aiutarla! Devo aiutarla! Oh! Oh, cacchio! Ok, ci siamo! C'è una scala qua da qualche parte! Oh, eccola qua! Perfetto! Ok! Oh! Vediamo! Che cosa sta accadendo? Oh, eccoli cattivi! Oh, come... Sparai! 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 Amori! Ah! Non vi prenderete! Scusa! Ah! Sta combattendo! No! Fidemi iniziare! Damn! Ecco, adesso vi date quelle cavole di pistole! E te la sei ripresa! Non vi lascia! Ok! Perfetto! Oh mio Dio! Allora, adesso voi sarete imprigionati e mi darete anche le cose che avete rubato! Lasciate in pace! No, non vi lascerò mai in pace! Eccoci qua! La nostra galleria è dei criminali! Ecco, signori, ho ripreso tutto quello che avevano rubato questi mascalzoni! Andiamoci! Oh mia mia! Con lei! Non voglio non scapparmi! Non lo stavo cercando di fare! Sì, cosissima che starà! Dovete scappare? No! No! Ah, ecco, mi sembrava! Adesso noi... Bene, adesso andiamo a costituirci insieme! Dai, che ne pensate! Forza! Uno e due! Uno e due! Uno! Ehm! Vabbè, ci penseranno i poliziotti! Riosi avvertiti! E tu che sei? Io? Ciao! Io mi chiamo Sbrisar! E tu saresti chi? Beh, io ovvio sono Spider Girl! Senti, tu sconosciuto! Cosa? Senti, adesso ti devo riportare a casa perché non puoi stare qua e pericoloso! Ah, ok, va bene! Riandiamo a casa! Non è un problema! Aspetta che non riesco a saltare! Oh, ecco! Ah! Ok, ecco! Uffa, io volevo però vederti sconfiggere il crimine! Sono un tuo grandissimo ammiratore, lo sai, Spider-Man! Oh, beh, mi dispiace! È una cosa troppo pericolosa! Tu non hai dei poteri! Non puoi... No, però volevo diventare un tempo come te! Come hai fatto a ricevere questi poteri? Ovviamente ci sono nata! Cioè, non ci sono proprio nata! Cioè, c'è stato un piccolo ragnetto venenoso che non potrei mai trovare perché era un unico del suo genere e mi ha dato i suoi poteri! Ah, ok, ok! Sto facendo pinta! Bene, tu abiti qua? Sì, abito proprio qua! Grazie mille, Spider-Man, per avermi riportato a casa! Buon lavoro! Ciao! Non cacciarti mai nei guai! No, 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 no! Oh, cacchio! Oh, cacchio! Quindi praticamente Zoe fa finta di non essere... Cioè, quindi Zoe fa finta di essere Spider-Man, nel senso, è Spider-Man e altri supereroi! Però non vuole dircelo neanche a noi, neanche a me! Oh, mio Dio! Voglio assolutamente vederla in azione con anche gli altri superpoteri! Aspettate però! Devo ordinare una radio! Ordino una radio così che appunto posso sapere che pericoli potrebbero esserci in casa! Ok, grazie a questa radio dovrei riuscire a capire se ci stanno dei criminali in agguato! o dei crimini! Quindi, vabbè, devo semplicemente aspettare che ci sia una novità, ma al momento sembrerebbe che è tutto quanto off! Quindi, appena sento una voce, inizio a muovermi! Attenzione! A tutte le centrali! C'è un'emergenza al faro! Dei mostri sono in azioni! Oh, Dio! Riccate immediatamente sul logo! Oh, cacchio! Oh, cacchio, cacchio! C'è un'emergenza al faro! Ok, sciabolette! Devo assolutamente correre, allora! Devo sbrigarmi! Oh, sì, sì! Voglio vedere... Aspetta, quindi Zoe potrebbe... Eccola! Oddio! Oddio, sta andando verso il faro! Ed è diventata Iron Man! Oddio! Devo sbrigarmi, devo sbrigarmi! Oh, cacchio, che figata! Ok, che, 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 che... Oh, sì, guardate! Oddio, Zoe, è incredibile! È una supereroina a tutti gli effetti! Adesso praticamente sta andando a... Verso quella zona per... Per fermare il crimine! Questa cosa è fighissima! Oh! Ok, eccoci qua! Oddio, guardate! Quindi sta sopra il faro! Devo salire sopra il faro subito! Aspettate, in qualche modo... Oh! 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 Ok, ci sono! Ah! Ok, vediamo cosa sta accadendo qua sotto! E ora vi sconfigo! Oh! 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 Oh, degli zombie? Che ci fanno degli zombie sopra un faro? Oh, questo è strano! Oh! Ecco! Guarda, guarda, guarda! Sto provando a batterli! Ok! No, ce ne stanno ancora altri! Non riesce proprio a sconfiggere! Aspetta, faccio... L'ho buttato io! L'ho buttato io! Ah! Oddio, lì, l'ha dato una mano! Ok! Ok, eccola qua! Ok, facciamoci vedere di nuovo! Brava! Bravissima Iron Man Girl! Brava! Bravissima! Ma che cavolo! Ma che cosa ci fa ancora? Ancora? È la prima volta che tu mi vedi! Perché hai detto ancora? Infatti, no, no, è che mi ricordavi altri fans! Ne avevo davvero tanti fans! Ah, ok! Senti, ma sei stata bravissima, veramente, ad aver sconfitto quelle bestie! Sei stata davvero brava! Grazie! Ma tu non dovresti essere qua! E perché mai? Io sono un tuo grandissimo fan! E ti voglio ringraziare! Perché grandissimi fan! Ringrazio! Ma potrebbe essere pericoloso! Quindi ti porto a casa e tardi devi dormire! Ah, ok! Va bene! Comunque posso avere un tuo fotografo appena arriviamo, per favore? Ehm... Ok! Ok, sì, e vai! Sono un tuo grandissimo fan, ammigliatore, segreto proprio! Tantissimo! Tantissimo! Che sonno! Che mamma mia! Oh, sciabalette, chiedi, sono stata tutta la giornata fuori per via di Zoe! Ah, mamma mia! Vabbè, di giorno solitamente non ci dovrebbero essere crimini! A questa unità! Il carrello all'interno della chiesa è collato! E dei demoni stanno emergendo! Nitevi tutti sul luogo! Oh, mio Dio! C'è nella chiesa dei demoni? Cosa? Aspetta, quindi lei in teoria dovrà mettersi quella tizia rossa che aveva prima! Perché è anche un suo super potere! Aspetta, devo vedere un attimo se fuoriesci da casa! Ecco lei lì! Sta volando! Ok, perfetto, perfetto, perfetto! Oh, mamma mia! Devo sbrigarmi! Devo sbrigarmi! Uh, che figata! Zio, quindi diventa pure un demone! Ma che cacchio di super eroina! Fa tutto lei! E non vuole assolutamente che le persone la riconoschino! Oh, questa cosa è figa! Questa cosa è davvero figa! Ok, ragazzi, dobbiamo sbrigarci! Assolutamente sbrigarci! È in chiesa! Qualche isolato più avanti da qua! Ok, ok, meno male che c'è sto coso! Eccola lì la chiesa! Ok, sbrigiamoci! Sbrigiamoci! Oh! Eccoci! Oh, eccola qua! Ok, andiamo a vedere, andiamo a vedere! Che cosa cerchi di fare, eh? Beh, è ovvio! Distruggere l'intero mondo! No, non te lo farò fare! Ma dai, ma sei anche tu un demone! Perché fai così? Beh, è ovvio, no? Io sono un demone buono, a differenza tua! E non mi diverto a fare una cosa del genere! Che cosa hanno fatto i tuoi scagnozzi? Beh, hanno fatto quello che è giusto! Dai, andate! Oh mio Dio! Ma ci sono tutti questi crimini ogni volta nella città? Oh, cavolo! Stanno bruciando tutto così, però! Oh, aspettate, magari posso... Posso fare una cosa! Gli ho dato una pacca sul culetto! Ma che cavolo? Che cosa è stato? Devo distrarla! Devo distrarla! Ma che cavolo è questo rumore? Ma cacchio! Ma cacchio, cacchio! E bam! È cilata con i pugni! E basta, bagno! Oh Dio! Ma che cavolo è che continuo a fare questa spinta? Ehi, che cos'è? Cosa stai facendo? Stai piangendo! Eh, io piangere mai! Va bene, va bene! Adesso scontriamoci nei due! Visto che i tuoi demonetti non è che erano così tanto forti! Oh, vabbè! Perché ancora non hai combattuto me! Dai! Forza, prova a darmi un pugno! Oh, provaci tu invece! Oh cavolo! Sto combattendo! Ok, ok, ok! Oh, sciavolette! Però l'ho distratta! Che figata! Oh, dai, dai, Zoe! Dai, Zoe! Dai, butta laggiù! Butta laggiù! E... Ah, presa! S'è andata via! Oh, ok! Bene, sei riuscita! Ah, buttata nell'inferi! Ehi! Sono il tuo grande ammiratore! Bravissima! Oh, sciavolette! Ma come hai fatto? Sei stata incredibile! Oh, ma... Come ti chiami? Aspetta! Io sono... Un demone! Non ti... Non ti riguarda! Ah, provieni da lì? Da qua sotto provieni pure? Eh... Sì! Ah, che figata! Da lì sotto! Uh, e quindi adesso ritorni indietro! Va bene, ci vediamo! Perché stai chiudendo? Perché non si sa mai... Devono arrivare quali autorità... E non si sa mai che... Da qualche persona... Normale! Ah, e tu come ritorni a casa se chiudi? Non è l'unico portale! Ah, ok! È il cecchino! Che cosa pensavi? Ah, che figata! Sei davvero incredibile comunque! Qua sono il tuo autografo? Eh? Un mio autografo? Anzi, posso uscire con te? Sembri molto carina! Aspetta! Che scema! Zoe pensa davvero che io sono così tanto stupido da non averla riconosciuta! Oddio, sta ritornando a casa! Ok, questa volta sapete cosa che facciamo? Andiamo a casa di Zoe e vediamo come mi nasconde le cose! Voglio vedere veramente a che punto arriverà, mamma mia! Sono stra-mega-curioso! Dai, forza, sbrigiamoci! Non posso perdere tempo! Ma, chi sa, potrebbe essere anche un bellissimo potere il fatto che io riesco a usare così tanto bene questo cavolo di rampino! Eccoci qua! Siamo da Zoe! Siamo da Zoe! Eccoci qua! Ok, ecco! Bene, perfetto! Ok, ok, andiamo a vedere! Andiamo a vedere! Ok, Zoe! Zoe! Che c'è? Ciao, Zoe! Mamma mia! Non hai idea, Zoe! Praticamente, no, perché praticamente ieri sono andato in giro e ho visto Spider-Man combattere, Iron-Man combattere e anche una demone, una ragazza demone combattere! Sono state tutte e tre bravissime, porca miseria! Ma tu ti rendi conto? Mamma mia, veramente! Cioè, la nostra città è protetta da tre eroine e ogni volta c'è un crimine! È assurda questa cosa! Meno male, meno male, sì, se no saremmo proprio spacciati! Senti, ma tu come fai a sapere di... Cioè, sei stato così tanto attaccato a questi supereroi? Cioè, come hai fatto a sapere dei crimini? Ah, dei crimini! Eh, beh, è molto semplice! Ho ordinato una radio che mi trasmette praticamente tutto quello che accade alle autorità e poi da lì vado a vedere di persona quello che accade! Ma sei appazzito, è illegale! Come è illegale? Aia! Oddio! Zoe, aspetta! Perché mi... Come hai fatto a togliermi tutti quanti i cuori e lasciarmi con un solo... Con mezzo cuore? Ah, ma è ovvio, Sbri! Eh, avevo la spada in mano! Ma non ce l'avevi la spada in mano? Ma non è vero! Ma di che stai parlando? Sì, che c'è! Aia, mi hai fatto male! Me ne vado a casa e vado a vedere altre cose delle autorità! Ehi, no! Ok, ora che gli ho detto questa cosa sicuramente Zoe vorrà rubarmi la radio così che io non interferirò più con i suoi piani! Oh, vediamo, vediamo, voglio essere curioso di vedere come farà! Oh, sciabolette, che ridere! Oh, che ridere! Ok, bene, 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 bene! Eh, aspettate, fatemela spostare questa radio magari! Oppure, dove posso metterla? Dovrei mettere tipo in un posto dove lei potrà... Probabilmente vorrebbe andare subito... Eh... Magari sul tetto? No, io non ho un tetto! Eh, magari... No, vabbè, facciamo una cosa! Lasciamola lì e aspettiamo che Zoe faccia la sua mossa! Vediamo, sono curiosissimo di sapere come entrerà in casa mia! Ok, perfetto! Bene, al momento sembrerebbe che non ci sia niente! Perché c'è del fuoco sottoterra? Che cavolo sta accadendo? Eh, oddio! Oddio, è lei! Oh! Oh! Mi sta rubando con il potere del fuoco! La radio me l'ha rubata! Sì, è andata via! Ah! Oh, cacchio! Aia, ok, devo, 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 devo vedere però dove... Oh, guardate che scema! Ma l'ha piazzato pure male! Oh, cacchio! Devo distruggere questo blocco il prima possibile! Così vedo da dove è sbucato! Aspettate! Oh, è sbucata lì! Sono andata via! Aha! Si è fatto un tunnel sottoterra! Beh, logicamente è sbucata da lì! Oh! E dove me la stanno andando a nascondere, eh? D'altronde, mamma mia, cioè, per forza gli devo dire che la riconosco! Perché letteralmente è lei però con le sue fattezze da fuoco! Quindi, eh, necessariamente... Oh, ecco! Che sta facendo? La sta buttando nel cesso? No, la mia radio! L'ho comprata un botto di soldi! Oh, sciapolette, no! Oh, cacchio! Ehm, ehm... Zoe? Zoe? Zoe! Zoe? Chi è Zoe? Come chi è Zoe? Sei nella casa di Zoe e ti vesti da Zoe, solo che c'è un po' di fuoco addosso! Che cavolo accade? Io... Io... Perchè sei qua, Swift? Cioè, ma è un cosplay! Non toccarmi! È un cosplay? Non è vero! Sì, è film! Non è vero! Non è vero, è impossibile! Zoe, ti pare che non l'ho capito fino ad adesso che finora hai fatto Spider-Gwen, hai fatto Iron Man e hai fatto anche la demonessa? Eh? Non lo sapevi? Come fai a saperlo? Com'è possibile? Com'è possibile? Perché io so del tuo segreto! Ciao! Cosbri, ma mi hai spiata! Sì, ed è fighissimo Zoe! Hai un quattro poteri! È una cosa forte! È fuori di testa! Pure io voglio avere questi quattro poteri! No, non voglio! No, no! Perché? Perché sei stata bravissima ad aver fatto tutti i quattro poteri! Sei stata veramente formidabile! Posso diventare uno come te? Eh? Eh? Se sei impazzito, vieni qua, sbrizer! Ti ammazzo! Ah! No! Che folle, che folle, che folle! Sali, 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 sali! Oh, sciabolette! Ah! Che figata! Oh, cavolo! La mia cash è davvero una supereroina! Ok? Mamma mia! Chissà quali altri poteri potrebbe avere! Mi raccomando, ragazzi! Per altre nostre avventure non esitate a cliccare questi video! E ci vediamo ad un prossimo e nuovissimo video! Ciao, ciao! 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 Ciao!